Da oltre 50 anni la nostra azienda familiare si occupa della lavorazione e della vendita all'ingrosso di carne suina di alta qualità. Dal 2012 abbiamo anche un nostro punto vendita diretto a Verona, nel quale ci stiamo impegnando per modernizzare il concetto di macelleria e per fare in modo che più persone possibili tornino ad avere un proprio macellaio di fiducia. Dal 2021 inoltre abbiamo aperto uno spazio aziendale a Trevenzuolo per servire anche i clienti della provincia. Allevamento etico, benessere animale, marezzatura, ricerca di qualità, tecniche di frullatura e di cottura barbecue per noi non sono una tendenza, bensì i pilastri sui quali fondiamo il nostro lavoro quotidiano. Ci siamo specializzati anche nella ricerca delle migliori produzioni internazionali, tra cui bovini di razza blecangus, vaghiu giapponese, sashi finlandese, rubia spagnola, suini di razza mangarizza o allevati allo stato semibrado. Pogli di allevamento non intensivo sono solo alcune delle eccellenze che con continuità siamo in grado di offrire ai nostri clienti. Sia chiamate le classiche bracci o una cottura lenta con tecniche di cottura barbecue, da noi potete trovare tutto il meglio per far esplodere di gusto le vostre papille gustative. Grazie. Grazie. Grazie.